Continuiamo con i nostri interventi, Michelino Chioni adesso interverrà. Ci parlerà dell'utilizzo di Blender all'interno dei mondi virtuali, per chi non lo sa in internet esistono dei mondi virtuali, ci sono dei motori che permettono di socializzare con dei avatar 3D in ambienti 3D e Blender trova nella costruzione di questi ambienti e di questi avatar uno strumento davvero potente e gestibilissimo. Bene, benvenuta Michelina, grazie per essere intervenuta. Tu sei già microfonata, quindi prego. Io sono Michelino Chioni, Michel Techland nei mondi virtuali e mi occupo da 10 anni di mondi virtuali e da almeno 8 ho il mio mondo virtuale personale su un server Linux che utilizzo nella mia didattica quotidiana. Io insegno matematica e scienze presso una scuola secondaria di primo grado e quindi con i miei alunni cerco di lavorare in questo modo. Ok, questo è appunto Techland, il mio mondo virtuale è basato su OpenSIM che è una delle tante piattaforme 3D e ha tutte le caratteristiche appunto dei mondi virtuali, cioè un ambiente simulato dal PC persistente, quindi che vive al di là se l'avatar è collegato o no. Gli avatar possono visitare il mondo simultaneamente e indipendentemente e all'interno interagiscono con oggetti ed altri avatar. Quindi Techland è configurato come un gruppo di isole, sia educational che di servizio ed è nato con lo scopo di andare al di là della classe come unico ambiente di apprendimento, quindi diciamo allargare i tempi e gli spazi dell'apprendimento. E soprattutto per trattare la matematica, perché è iniziato con la matematica in maniera un pochettino più ludica, specialmente per visualizzare i concetti astratti un pochettino più ostici per gli alunni di quell'età, soprattutto i concetti geometrici. Come si può vedere anche in questo caso la costruzione di figure geometriche. Poi piano piano si è espanso per includere anche altre branche delle scienze, quindi biologia, chimica, scienze della terra. In genere i mondi virtuali, almeno per quanto riguarda l'educational, possono essere fruiti in due modi principali. O è l'insegnante che in qualche modo configura il percorso e quindi in questo caso gli avatar sono solo degli esploratori del mondo, dei fruitori quasi passivi anche sebbene con una minima interattività, oppure nel secondo caso sono dei protagonisti, nel senso che per alcuni progetti particolari direttamente da zero sono loro che costruiscono il mondo, costruiscono gli oggetti e in questo caso l'insegnante è soltanto un supervisore, un facilitatore dell'apprendimento. E quindi in questo caso l'alunno è il protagonista. Come avete visto sono molte le cose che si possono fare all'interno di un mondo virtuale, in questo caso si utilizzano appunto dei tool di costruzione interni. La peculiarità di Techland, ho fatto in modo che gli oggetti stessi esprimessero le proprietà e dessero informazioni su quello che è il percorso, in questo caso per esempio è spiegato in maniera visuale molto intuitiva il teorema di Pitagora. Questo si ottiene con degli script particolari in un linguaggio particolare che a prima vista può sembrare ostico perché è un linguaggio testuale, ma da quando al Ministero si fanno progetti per lavorare con programmi tipo visuali come Scratch, allora per i ragazzi è diventato facilissimo programmare e sono adesso essi stessi che fanno coding con i mondi virtuali. In questo caso per accedere al mondo come avatar c'è bisogno di un'interfaccia grafica che è un viewer particolare, al cui interno sono inclusi anche i tool di costruzione e sono delle forme semplici di costruzione che però già permettono comunque una resa grafica. In realtà noi privilegiamo questi strumenti di costruzione rispetto a quelli esterni per un semplice motivo, perché lavorare in team, lavorare insieme, scambiarsi idee è proprio un obiettivo didattico di questo mondo. Quindi questa è una tipologia di isole proprio di progetto collaborativo, un'isola partita da zero in cui i ragazzi insieme costruiscono e sono proprio creativi al massimo. Qui faccio vedere uno dei tool di costruzione direttamente dal viewer, i ragazzi possono costruire, questa è una mia alunna, stanno costruendo una molecola di acqua ovviamente velocizzata, per far capire che loro direttamente, essendo insieme, potendo collaborare, potendo parlare in chat, in voice, scambiarsi materiali, vedere video, è possibile fare molte cose. Questo per esempio è un progetto su delle unità di misura, quindi chiamata Metroland. Abbiamo appunto un'isola per ogni tipologia di argomento. Allora, questa è un'altra cosa che noi facciamo spesso nei mondi virtuali, cioè fare dei video, la tecnica viene chiamata machine, ma di cattura dello schermo. Questo per esempio è un video sulla canzone dei Modena City Ramblers, i Cento Passi, che abbiamo utilizzato nella settimana della legalità, dove appunto i ragazzi hanno cercato di unire vari elementi, ce ne sono alcuni fatti con software esterni, altri invece di moderazione interna. E questo per esempio è un altro video che ha vinto, è stato uno dei vincitori del premio nazionale del PNSD, della Nazionale Scuola Digitale. Cioè si possono fare belle cose anche dal punto di vista grafico. Ok, allora, tra i vari mondi virtuali il capo tipico è sicuramente il più importante Second Life, dove veramente è nato nel 2003, ha avuto la sua massima espansione nel 2007, ma diciamo ancora adesso racchiude una grossa fetta di mercato appunto anche economico. Tant'è che la Linden Lab, che sta cominciando a sviluppare un'altra piattaforma graficamente più accattivante, non ha ovviamente dismesso questo mondo perché rappresenta ancora veramente il grosso dell'economia. Diciamo da una costola di Second Life, nel senso che quando Second Life ha reso disponibili i protocolli di comunicazione, poi sono nati altri mondi come questo, come Teclan, quindi basati su OpenSIM, che potremmo definirlo diciamo un clone del protocollo di Second Life, adesso sta prendendo anche un po' di strade diverse, un po' di, come dire, di autonomia. La differenza è che mentre Second Life è un mondo proprietario, le OpenSIM possono stare su un server qualunque, possono viaggiare, si può viaggiare da un mondo all'altro tramite un protocollo chiamato Ipergrid, infatti a Teclan ci si può arrivare anche se si ha l'Avatar in un'altra grid pubblica, come Osgrid, come Kraft, che tra l'altro è gestita da un italiano. Ovviamente Sansar, che è il nuovo arrivato, Ai Fidelity, che è nato sempre dal fondatore della Linden Lab, che si è staccato e ha cominciato questo nuovo progetto, tutte e due, Sansar e Ai Fidelity, sono nati prettamente per essere visti con i visori, questa era proprio la priorità principale. Altri sono SenseFay, Word, Rechat, Minecraft, che si usa moltissimo in ambito educational nella scuola primaria, perché proprio per i ragazzini ci vanno a nozze e per gli insegnanti non hanno bisogno di insegnare la tecnica, questo è il vantaggio. E veniamo a Blender, che ha rivoluzionato il modo di vedere la grafica nei mondi virtuali. Questa è un'astronave che si trova a Teclan, fatta da un Blenderista appassionato, quindi non professionista, che per far vedere quello che si può realizzare con Blender. Ha cambiato veramente l'estetica, la grafica, la bellezza del mondo virtuale e la voglia di esplorare. E sono delle cose bellissime, quindi la potenzialità di Blender nei mondi virtuali è veramente enorme. Sono arrivati più o meno nel 2012-2013 in maniera non sperimentale, in maniera più massiva. E quindi molti hanno cominciato a lavorare, a rendere le sim, specialmente in Second Life, le sim più visitabili. Questa per esempio è fatta da un famoso costruttore che è Sergio De La Cruz, come avatar, che fa delle sim molto belle, fa delle sim intere, sia in Sansar che in Second Life. E ovviamente per realizzare delle sim intere non bisogna avere solo competenze tecniche, ma competenze di design, di visione di insieme, di cura dei dettagli, insomma ci sono delle competenze particolari. In realtà la massima sperimentazione di creazione di sim si è avuta non tanto in Second Life quanto in Open Sim, ma solo per un semplice motivo, i costi ridotti, perché ogni volta che si importano o mesce in Second Life si paga anche in funzione della grandezza, ma anche perché poi si possono salvare e trasportare in altre chat. Allora questo è l'aspetto sociale di Second Life. In Second Life è una piazza sociale dove la gente si incontra, quindi si dà molta cura sia all'aspetto dell'avatar, ma proprio all'aspetto della sim, quindi chi sta all'interno di un mondo vuole avere delle cose belle intorno da vedere. E qui c'è un altro capitolo da esplorare nei mondi virtuali, che è quello dell'embodyment, cioè la sensazione di essere lì, l'avatar ti dà l'idea che tu sei lì, che sei su quella panchina, che stai in compagnia di un bel ragazzo, in questo caso un bell'avatar, e quindi tutta la funzione sociale che fa sì che la cura dei dettagli, degli ambientazioni, quindi l'utilizzo di programmi che diano questa sensazione di bellezza è molto importante, perché Second Life è nato per quello, è nato più per relazioni sociali, poi si sono aggiunte altre finalità, mostre, corsi, vari tipi di cose, ma soprattutto la gente viene per incontrarsi e per socializzare, quindi le ambientazioni devono essere veramente molto belle. E quindi ovviamente la cura dell'avatar è la cosa principale. Gli avatar, questo è un avatar mesh, gli avatar classici non è che erano male, si lavorava molto sulle texto, però l'avatar mesh dà soprattutto la possibilità di avere delle animazioni fluide, delle espressioni facciali, è una cosa molto bella, tenendo conto anche poi della cura anche dei vestiti, eccetera. E questo ha dato spazio a tanti brand, tanti team, di avere delle opportunità lavorative molto forti con blender in open sim, perché l'apparel, inteso come sia avatar che vestiti, è quello che tira maggiormente dal punto di vista monetario nei mondi virtuali. Tenete presente che una testa mesh, perché in genere viene venduta separatamente dal corpo, una testa mesh che in linden, che è la valuta di Second Life, sono circa 5 mila linden in media, rappresentano 20 Euro, quindi una testa mesh non trasferibile, quindi è tua e basta, e un corpo mesh altrettanti. Qui faccio vedere un pochettino le animazioni degli avatar, sono molto fluide anche rispetto a quelle che sono adesso in Sansar, che è ancora in via di sviluppo, quindi ecco perché comunque la gente cerca di, ci sta ancora in Second Life perché i movimenti dell'avatar sono ancora migliori. Come vedete anche gli uomini spendono un sacco di soldi in apparel, quindi giacchette, vestiti, questo è proprio un negozio di testa mesh, quindi non solo le femminucce, ma anche i maschietti vi assicurano che spendono un sacco di soldi in queste cose qui. E ovviamente il senso di presenza, il senso di esserci si riflette anche sul fatto che la gente vuole un posto dove stare, quindi la vendita di case di terre in Second Life vanno per la maggiore. Questa per esempio è una sim specializzata in vendita di case, dove tu scegli la tua eventuale casa, la casa ti viene rezzata, è il termine tecnico per dire posata sul simulatore, tu la puoi visitare, ti rendi conto se ti piace o no e quindi poi puoi eventualmente comprarla e posarla sulla tua terra. Quindi anche lì ci si è sbizzarriti con tutte le tipologie di case, dalle più futuristiche alle più tradizionali, possono essere vendute con o senza accessori mobili che sono controllati tramite script, tapparelle, luci, quant'altro. C'è solo la fantasia e il limite di queste cose. Sono fatte molto bene. Tenete conto che una casa, una di queste, costa un po' meno di un corpo mesh da 4 Euro. Questo è un altro, qui sto facendo un altro shop in Word, sono uno dei tanti che fanno corpi e teste mesh, quindi qui adesso ne vedete un po' di questi negozi. Se vi devo dire un po' di cifre, soltanto nel 2018 gli utenti hanno speso 336 milioni di ore online, hanno speso 65 milioni di dollari in beni e servizi, ci sono dai 50 mila ai 70 mila utenti collegati ogni giorno e diciamo una popolazione di 900 mila utenti che si collega almeno una volta al mese. Questo per farvi capire quanto le opportunità per chi vuole entrare in un mercato di mondi virtuali facendo oggetti, furniture, anche avatar, diciamo le opportunità sono forti. I vestiti, i vestiti veramente c'è un mercato grandissimo. Ok, e qui invece ovviamente abbiamo l'Amazon del mondo virtuale, cioè l'SL Marketplace. Adesso anche altre grid si stanno attrezzando, quindi si può invece di andare negli shop direttamente nel mondo, c'è la gente che preferisce ordinare da casa, senza neanche spostarsi con l'avatar, compra direttamente da un sito web, dopo aver cambiato i suoi soldi in Linden, perché ovviamente chi ha l'account ha la possibilità di comprare l'inden, e gli oggetti ti vengono recapitati direttamente sull'inventario dell'avatar. Quindi è come comprare veramente da casa, uno può avere a disposizione chiavi di ricerca, eccetera, quindi si ha veramente la possibilità di comprare di tutto. Ok, un'altra delle caratteristiche che sono nate adesso in Second Life, e si possono vedere con le ultime generazioni di viewer, sono gli oggetti, fatti ovviamente in mesh, che possono essere regati, e quindi dentro non c'è l'avatar, c'è direttamente l'oggetto che può essere mosso, con le stesse animazioni con cui si muove l'avatar. Quindi è una nuova funzionalità che c'è adesso in Second Life, cioè nei mondi virtuali, che dà spazio ai blenderisti di lavorare con un sacco di cose. Questo è un altro avatar famoso, uno di questi che è nato come demo, quindi questo è un oggetto, quindi non c'è un avatar dietro, ma le animazioni sono esattamente le stesse che animerebbero un avatar. Questa è la sim del supporto italiano a Firestorm, che è il viewer principale che si usa in Second Life, ma anche nelle altre Grimm basate su OpenSim, che appunto forniscono supporto in italiano per chi entra in Second Life e ha problemi con il viewer, eccetera. Qui parlo un attimo, questo è un video che ho trovato su YouTube, fa vedere come Sansar viene soprattutto gestito, viene soprattutto utilizzato per essere vissuto con i visori. Quindi chi indossa i visori può direttamente esplorare il mondo, si vede che le animazioni dell'avatar ancora non sono perfette, ma ci stanno lavorando anche a quello, e ogni tanto appunto si vedono le mani, sono quelle con cui poi si interagisce all'interno del mondo virtuale, quindi un'immersività maggiore. Ok, questo è, ho fatto un breve video, diciamo questo è in questo caso il mio avatar, ho preso una qualsiasi avatar mesh free che ho trovato direttamente su Sansar, la grafica è bellissima, non c'è niente da dire, perché ovviamente rispetto Second Life, i mondi basati su OpenSim hanno lo svantaggio che non possono lavorare ad alto numero di vertici, quindi insomma i blenderisti sono un tantino limitati, mentre diciamo in Sansar non si hanno limitazioni di questo tipo, anche nella testurizzazione più fine. Qui praticamente il Sansar lavora su esperienze, cioè ci sono dei mondi costruiti in cui uno entra, ancora non è configurato come piazza sociale, nel senso che è stato dato un accesso privilegiato ai costruttori, quindi ancora diciamo la gente bada più a costruire, ma che non a creare appunto relazioni sociali, un mondo ancora di questo tipo, vedete anche la camminata non è sicuramente fluida e perfetta, come l'avatarino di Second Life. Ok, allora questo invece è il progetto che stavamo, che è ancora in work in progress e stiamo portando avanti, cioè sia in OpenSim che in Sansar, stiamo creando Blenderland, cioè l'isola degli associati che possono appunto incontrarsi per riunioni, per corsi dentro queste isole, quindi questa abbiamo cominciato a costruirla qualche… Sì, scusami Michelina, aggiungo però associati e non, attualmente l'isola, le isole sia in Sansar che in OpenSim sono chiuse perché ci stiamo lavorando come associati, quindi una volta che ci sarà da vedere sarà aperta a tutti, questo tengo a precisarlo, ti era sfuggito. quindi è costituita per il momento da una grossa isola che in realtà sono 4 Sim, con delle Sim mare intorno e anche delle Sim negozi, questa è la sede dell'associazione, questa è la piazza vicino dove appunto ci si può incontrare ma anche discutere in maniera informale. Dovrebbe partire l'audio? Vediamo. Sì, se ti avvicini chiaramente è un po' sgrana, quindi va a vista una certa distanza, però diciamo fa la sua figura. Magari si potrebbero sostituire le foto laterali con delle foto… Ciao Emi! Bello, bello da giro. Ciao ragazzi. Perchè non ha magari esperienza con le funzioni di Open Simulator, se volete rimanere seduti ma comunque ispezionare l'isola, vedere una bella porzione dell'isola, basta tenere premuto CTRL e tenere premuto ALT contemporaneamente, poi con la rotella del mouse cliccando da qualche parte potete allontanarvi ed uscire proprio fuori dal vostro corpo e girare intorno all'isola, quindi andare a vedere anche dei particolari in generale. Questo permette di poter anche girovagare l'isola senza muovere l'avatar. Magari se volete vi potete anche allontanare, potete andare a vedere la zona della ferrovia dove sta lavorando Davide, e poi c'è tutta un'area che sto realizzando io in maniera molto più sbrigativa in realtà, non sto purtroppo utilizzando la stessa tecnica di Dario delle bake e delle texture, però voglio dire, spero che piaccia la zona del residence, ci sono una serie di villette, ho anche previsto una piscina, una zona ballo lì, una zona diciamo abbastanza, sempre una zona conviviale. Sto cercando persone che come me Dario aiutino ad ampliare l'isola, quindi che si prendano uno di questi movimenti. Una delle difficoltà che c'è tra gli associati e non è il fatto che siamo chiaramente disseminati su tutto il territorio italiano, d'accordo? Quindi incontrarci se non fisicamente magari in appuntamenti come la Blender Conference Italia, la BIC in generale o altri appuntamenti, difficilmente ci si riesce a incontrare. Il mondo virtuale, questo progetto è un progetto che nasce proprio per interagire. Tutto quello che vedete è creato con Blender, la sede virtuale, tutto il paese che è un work in progress, quindi vi chiedo pazienza nel, insomma, di non avere giudizi affrettati in quello che stiamo facendo, perché chiaramente è tutto in costruzione. Come ha detto Michela, è un business grandissimo quello dei mondi virtuali. Noi ci stiamo lavorando perché per noi l'importante è la socializzazione, incontrarci, però è chiaro che entrare nel mondo virtuale significa anche avere più possibilità per altri tipi di lavori. Va bene? Ok. Ho preso poi le RTEX surrealizzate e le sono andate a applicare direttamente sull'oggetto. Quando io lo importo all'interno di Blenderland, l'oggetto è bianco. Sì, perché uno degli aspetti interessanti di questo progetto, dei mondi virtuali, è proprio l'insegnamento. Cioè immaginate se io anziché spiegare come ho importato la Meari, quell'autoveicolo, stessi spiegando magari Blender, quindi Blender di base o magari un aspetto avanzato di Blender, come sarebbe stato già diverso farlo in questo modo, quindi farlo vedere anche praticamente, anziché magari utilizzare un altro strumento. Ce ne sono vari gli strumenti, questo è solo un strumento che si aggiunge. Però tu hai un oggetto direttamente rezzato, come è il termine che ha utilizzato Michela, un oggetto 3D messo sul terreno, dopodiché io lo posso anche prendere o lo posso guardare, lo posso ispezionare, posso vedere effettivamente o è come se lo avessi proprio davanti a me, questo oggetto 3D. D'accordo? Tutto quello che vedete è realizzato con Blender. C'è anche una zona negozi in cui l'avatar può essere personalizzato, quindi anche questa è una grossa opportunità. Questa invece è Blenderland in Sansar, dove soprattutto Dario sta replicando la sede a altre sezioni, e anche questo è un lavoro, un work in forward, quindi vedremo gli sviluppi. Diciamo la parola d'ordine in questo momento è sperimentare. Esatto, sperimentare. La sede presenta un anfiteatro per la socializzazione di massa, d'accordo? Poi ci sono al suo interno delle vere e proprie aule, dove il docente può avere un gruppo di persone per spiegare una determinata caratteristica di Blender, se si sta spiegando Blender o qualsiasi altra cosa legata all'utilizzo di Blender. Adesso qua su Sansar stiamo sperimentando, un limite di Sansar è il limite delle schede video, quindi probabilmente lavoreremo in doppia linea, non abbandoneremo un pen simulator perché è quello chiaramente largamente più utilizzato, meglio fruibile e quant'altro. Poi chiaramente chi ha la scheda video in un certo spessore, questi mondi virtuali li vedrà molto 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 meglio, d'accordo? Può sembrare grafica, modello agnotante, eccetera, io invito magari a vedere, così a visitare, solo per curiosità, d'accordo? E anche a pensare a quelle che possono essere le prospettive di lavoro, ok? Quindi con questo speriamo di sentirci presto su questi argomenti perché sicuramente per i Blenderisti sono opportunità sia lavorative che di sperimentazione. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti